... Parte l'avventura estiva per 30 bambini, seguiti dall'oratorio Il Buon Samaritano di Nocera Inferiore. Una vacanza alla fine di un percorso durato tutto l'anno verso Ascea Marina, al villaggio del Sacro Fino, per accompagnarlo Don Ciro Galisi e dieci suoi collaboratori che durante una settimana intera offriranno giochi e divertimento a questi bambini, ma soprattutto insegneranno loro l'amore verso Gesù. L'esperienza di quest'anno, siamo partiti a ottobre, così guidati un po' dalla Providenza, questo centro, l'oratorio Il Buon Samaritano, della nostra comunità parrocchiale San Antonio del Presepe, con tanti animatori sia per la menza sia per il doposcuola e tanti maestri ci hanno accompagnato in questo cammino, anche scolastico di formazione. E questa colonia estiva, in questa settimana che andremo ad Ascea, all'Istituto Sacro Cuore, è stato anche un privilegio per loro, tanti di loro non hanno mai visto il mare. Io ho detto se avessero studiato bene e fossero stati promossi, avevano in premio anche questa colonia e così è stato. Siamo circa 30 bambini con 10 educatori e animatori e vivremo questa occasione sia di svago, sia di mare e anche, giustamente come tu dicevi, per far conoscere Gesù. E chi vive con Gesù chiaramente deve aprirgli il cuore anche ai fratelli, deve aprirgli il cuore anche alla carità. L'esperienza del Buon Samaritano è stata per tutta la città di Nocera un momento educativo per favorire tanti, sia come provvidenza, sia come collaboratori, per permettere anche a questi bambini di un momento di grazia, un momento di serenità e un momento anche di benessere per loro. Un'occasione per fare una bella esperienza di chiesa, laica, accompagnati da Don Ciro, che si rimbocca le maniche e che si diverte, fa festa, fa gioia insieme a 30 bambini che forse, se non fosse stato per questa opportunità, non sarebbero andati al mare. Ho frequentato, sarà un anno, pure di più forse, quindi mi piace perché sto con tutti i miei amici di questo centro parrocchiale.